Per i 102 furbetti del reddito di cittadinanza scovati alle forze dell'ordine in Irpinia sono scattate denunce per reati che vanno alla truffa, ai danni dello Stato, favoreggiamento con dichiarazioni false del privato in atto pubblico, omessa denuncia di quanto dovuto e omessa comunicazione di informazioni sulla variazione del reddito e del patrimonio. Molto alto il numero di posizioni IMSS verificate in Irpinia, oltre 21.000 per circa 10.000 nuclei familiari. In sostanza circa 14.000 percettori di reddito sono passati al setaccio. I controlli sui nuclei familiari sono stati approfonditi in 530 casi dai quali è il risultato il deferimento dei 102 beneficiari nella sola provincia di Avellino, dove non sono mancati i casi eclatanti. Dopo una serie di riscontri incrociati è emerso che un uomo di Chiusano San Domenico di famiglia benestante che è solito viaggiare a bordo di una Ferrari percepiva il reddito di cittadinanza. L'auto è stata accertata dai carabinieri essere intestata al figlio. L'uomo evidentemente non risulta intestatario di alcun bene, anche se la famiglia è proprietaria di vari immobili e di molti terreni e convive con una funzionaria comunale estranea ai fatti e non indagata, ma per percepire il reddito di cittadinanza ha fatto risultare la residenza in un nucleo a parte. La vicenda ha destato scalpore in paese e come spesso succede a dare il via ai controlli sono le voci. Ed anche in questo caso sono state proprio le voci di paese a far scattare le indagini. A Castelfranci invece nella stessa famiglia sono due gli indagati, padre e figlio, il ragazzo per percezione in debita di reddito di cittadinanza ed il padre responsabile dell'area ragioneria del comune per concorso ed abuso d'ufficio, avendo lui effettuato, secondo l'accusa, il cambio di residenza per il figlio, consentendogli di incassare il reddito di cittadinanza. Risultava infatti appartenente ad un nucleo familiare formato da un'unica persona, mentre in realtà il ragazzo continuava a vivere nell'abitazione di famiglia di proprietà della madre. titolare di un'azienda vinicola. Tra i casi scoperti dai carabinieri, molte sono le situazioni in cui le persone che percepivano il reddito avevano trovato lavoro ma non lo avevano comunicato, continuando ad incassare indebitamente il reddito di cittadinanza. Anche in questo caso sono scattate le denunce per truffa ai danni dello Stato e falso ideologico in atto pubblico.